Ennesimo fake app di Bitcoin, ma questo lo aspettavamo, infatti ne abbiamo parlato sia nel video di lunedì sia nel video di mercoledì, era abbastanza semplice, non semplice ovviamente nulla è semplice in questo ambiente, però vi avevo indicato che questa fase rialzista aveva molte difficoltà di poter proseguire, ma era in corso in pratica il classico truffone, diciamo così, da upselling. E in effetti è avvenuto così, quindi c'è stato un'app del mercato e poi un sell off palese e di Bitcoin sul sell on news, perché la questione ciclica era evidente, chiara e ci dava la possibilità di una fase rialzista solo in un caso che aveva una probabilità molto bassa, perciò il mercato ha scelto le probabilità maggiori, quindi questo è stato il discorso. Qualcuno di voi magari mi avrà ascoltato per quanto riguarda lo short selling, io non lo faccio, voi lo sapete, però vi avevo indicato la possibilità che quella zona lì fosse una zona short selling, io non l'ho seguito, però magari qualcuno di voi nello scorso video ha preso spunto ed ha fatto il trader. Sono contento, se avete fatto profitto mettete il trading stop. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Quali sono le posizioni dei cicli annuali delle top 10 delle criptovalute? Le top 10 cripto escluse, ovviamente le stable diventano 8. E soprattutto quali sono le posizioni dei cicli annuali di queste criptovalute? Dove stanno andando? Alcune di loro hanno un grande punto interrogativo perché nei prossimi mesi potrebbero in effetti chiudere un ciclo annuale e questo significherebbe una fase up un po' più accentuata di ripresa, diciamo, da quella struttura di chiusura ciclica. Altre invece sono lontane anni luce, soprattutto a dei livelli di supporto notevoli. Quali sono queste cripto? Quali sono le migliori in termini di forza relativa? Ovviamente sono le top 10 in questo momento, quindi c'è Dodge in mezzo e non c'è Matic, però abbiamo Solana, ADA, BNB, Ethereum e Bitcoin. Analizziamo questi grafici e vediamo un po' come sono posizionate queste criptovalute per fare il punto della situazione. Nel frattempo ragazzi vi faccio vedere come Bitcoin sta proprio in questo momento tentando di andare a chiudere un minimo inferiore probabilmente a quello avvenuto anche nelle giornate del 22 di agosto che era 25,350, quindi questa era una fase così, quindi probabilmente stiamo andando a chiudere quello che è un ciclo trimestrale. Fate attenzione perché dalla prossima settimana sarà molto interessante vedere anche quello che farà Bitcoin, ma non ne parliamo oggi, però iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché nella prossima settimana parleremo proprio di queste cose qui e magari anche un piccolo piccolo longhettino ci potrebbe stare tra qualche giorno. Va bene, detto questo andiamo ai grafici di questa giornata parlando subito di Bitcoin, solo cicli annuali, non parliamo di breve periodo, parliamo di medio periodo, quindi annuale, quella è la situazione attuale dei mercati delle cripto e soprattutto di Bitcoin, delle top 10 come sono sviluppate, ci sono delle cose diverse l'una dall'altra. Allora vi faccio vedere intanto la posizione ciclica di Bitcoin, la scorporata, non so come si dice, i cicli scorporati l'un l'altro, ecco questi sono i tre cicli annuali lunghi ovviamente perché sono tre che compongono un quadriennale dell'Halving che è un ciclo di Bitcoin da 1428 giorni, non è importante. Il dettaglio, lo faccio apposta così, mi, diciamo, resta in testa l'idea che andare a ragionare su un'analisi ciclica con il dettaglio del giorno è completamente sbagliato, è una questione statistica, non fate, a meno che non fate ovviamente trading veloce di quelli di due giorni, diciamo, su questi cicli annuali intendo, è sbagliato, no? Perché dobbiamo lasciare spazio al mercato di muoversi e di fare i suoi movimenti. Allora qui teoricamente è iniziato il successivo ciclo quadriennale dell'Halving, come si svilupperà? Ovviamente lo sapremo solo alla fine, teoricamente questo è il primo ciclo annuale del nuovo quadriennale dell'Halving che dovrebbe durare all'incirca sostanzialmente altri 1400-1500 giorni, e sostanzialmente la prima fase dovrebbe prevedere un ciclo annuale abbastanza standard, quindi così costruito. Ora, io vi ho fatto anche una fase di bassista un po' più accentuata, ma la struttura di Bitcoin dovrebbe portare ad una chiusura del ciclo annuale intorno alla fine dell'anno barra marzo, quindi tra fine dicembre, metà fine dicembre, fino a marzo, quindi abbiamo gennaio e febbraio, quella struttura temporale e dovremmo andare a chiudere il ciclo annuale di Bitcoin con finte, controfinte, le solite cose come sempre possono accadere, però attenzione perché quella fase potrebbe essere una buona fase di accumulo, una buona area di accumulo se il mercato dà degli ottimi segnali poi di ripresa, quindi sempre a favore di trend, non contro trend, quindi ragazzi, mai quando scende, ma quando si riprende, e potrebbe esserlo anche per una fase up che è il secondo ciclo annuale dell'Halving, che secondo me potrebbe dare più soddisfazione di questo, che a dire la verità noi abbiamo trovato anche benissimo in Academy, però ovviamente la torta era piccola, quindi meno torta, meno gain a prescindere, perché tra quando entri e poi quando esci, i vari errorini dei sistemi di ingresso e di uscita rimane di meno, ovviamente è sempre un ottimo profitto per quanto riguarda questa annata. Allora, questa zona qui è esattamente a me, rappresenta, mi dà la sensazione, facciamo così, che sia una struttura ciclica che qui in questa zona ha fatto la sua metà, perché una metà ciclica doveva avere un minimo, in questo caso un massimo, e secondo me lo sta strutturando in questo modo il mercato, quindi con due sottospecie di cicli trimestrali corti che dovrebbero arrivare in questa zona qui, ma di questo poi ne parliamo quando siamo più precisi. In sostanza, quanto manca da questa giornata alla chiusura del ciclo annuale di Bitcoin? 154 giorni, circa un quadrimestre e tutto si svolge in questa fase. E' il quadrante, se vi ricordate la lezione sui quadranti ciclici, chi non la ricorda ragazzi andate a vedere il video, perché è fondamentale ragionare sui quadranti ciclici, altrimenti non comprendete questi video, e poi questa struttura qua ci indica anche che questo quadrante dovrebbe essere quello debole. Allora, la possibilità, le possibilità che Bitcoin possa spingere ulteriormente per fare nuovi massimi in questa zona prima di chiudere, sono più rarefatte, non dico che sono scomparse, ma dopo l'ultimo down che vi dicevo, si sono ridotte moltissimo. Quindi questa cosa qui è un'ipotesi che può essere valutata, ma ovviamente magari ha un 30% di probabilità. La probabilità maggiore di tutte è che il mercato faccia una specie di laterale in questo modo, e poi vado a chiudere la struttura del ciclo annuale, in pratica 4 mesi per trader, ma anche l'intero anno è per trader, così come era per trader nell'anno 2022 e anche l'anno 2021 ragazzi. Ma adesso vi faccio una domanda e vorrei una risposta. Secondo voi, chi vince sul mercato nel lungo periodo sono le tecniche di hodler oppure le tecniche di trading fatte con criterio. Un po' a naso, un po' a vista, un po' a gusto, oltre le fesserie che avete sentito in giro da chi non sa far nulla e poi parla, diciamo, delle cose. Però, secondo voi, che cosa cambia tra le due cose? Perché in effetti la differenza è sottile, non è una vittoria proprio a mani basse, è molto sottile ed è solo una, la vera, vera differenza. È un trade-off, già ve lo dico, un costo che i trader pagano rispetto agli hodler per vivere una vita un po' più serena e tranquilla. Però secondo voi, qual è questa cosa? Chi vince tra le due? Scrivetemelo perché vorrei fare un video su queste cose e anche una spiegazione, diciamo, per chi si affaccia da poco a queste situazioni. Allora, Bitcoin, vi ho indicato la data e la struttura del ciclo annuale. Questione di Ethereum invece, annuale più complesso perché qui abbiamo quella fase lì che non ci dà una grande informazione se l'annuale di ETH è stato chiuso a giugno con altre criptovalute come BNB oppure è stato chiuso invece a novembre con Bitcoin. Quindi se è stato chiuso a novembre questa scadenza ciclica ad ottobre, circa settembre-ottobre, cioè imminente, non verrà rispettata. E qui io vi ho inserito questa cosa. annuale in chiusura. Rispetto a Bitcoin, se Ethereum avesse un annuale che va in chiusura a settembre-ottobre è meglio iniziare a monitorare la regina delle cripto perché potrebbe avere una fase di maggiore forza rispetto a Bitcoin. Il problema qual è? Che questo dato non è univoco su questa criptovaluta. Quindi non possiamo darlo per scontato. Quindi non possiamo dire sì, stiamo andando a chiudere, basta la classica volatilità dei periodi dell'annuale. No, non è neanche così perché qualora fosse invece un annuale che ha chiuso insieme a Bitcoin a novembre ce ne andiamo a febbraio 2024 insieme a Bitcoin, quindi sempre dicembre-marzo. Quindi la questione è, come vedete, molto distante. Sono due aree temporali completamente distanti, perciò l'arcano sarà svelato sicuramente entro la fine dell'anno per quanto riguarda ETH, però il dubbio c'è. Anche considerando il fatto che l'ultimo ciclo annuale, quello iniziato teoricamente a luglio poi c'è stato anche qui quel su e giù, no? Quindi luglio è troppo piccolo per essere un ciclo annuale di una cripto come ETH. Solitamente li fa più lunghi. Però è anche sufficiente a livello teorico, quindi questo ci dice, ci crea una confusione generale e parliamoci chiaro, non possiamo avere una strada da percorrere in maniera univoca. Come si gioca la partita? Verso settembre, da metà settembre o ottobre in poi, nelle fasi up di ETH, devono essere tradate al rialzo e con i tentativi appunto poi stoppati eventualmente se continua la fase discendente, perché se chiude l'annuale e lo chiude qui, è un'ottima fase di ingresso, perché poi potremmo avere una cosa del genere e poi la ripresa successiva magari con prezzi più alti. Quindi questa cosa qui va tradata, questo significa che solo se siete trader, in questo caso potete agire su ETH, non credo sia fattibile in nessun altro modo. L'unica soluzione sarebbe il solito pack, che però ovviamente vi lascia un po' la mare in bocca, perché se le cose vanno male perdete a prescindere, se le cose vanno bene avete comprato poco. Quindi il pack è strategia inefficiente, ma ottima per chi non sa fare i compiti a casa e questo ci sta ragazzi, poi alla fine ognuno ha anche i suoi tempi, le sue caratteristiche, quindi il pack non è da demonizzare, non funziona bene in molti casi, funziona bene solo quando comprate nei mercati discendenti e solo se poi risalgono, perché se non risalgono vi faccio mille esempi di pack andati completamente al fallimento. Quindi ricordatevi queste cose, non siate superficiali quando sentite delle news relative a queste strategie, come se fosse la lampada di Aladino, il genio della lampada, eccetera, non è così, caso su caso cambiano queste cose, quindi ricordatevi sempre questi concetti. Allora, ETH, la questione sarà svolta a breve, sarà concepita a breve. Questione BNB, interessante BNB, perché? Perché la struttura di BNB non sembra indicarci un ciclo annuale spostato a dicembre-novembre, non ha proprio il minimo insieme a Bitcoin e quindi non c'è niente, ci sono dei massimi, sarebbe poi alla fine di dicembre un minimo in questa zona. Più probabile quindi che qui il ciclo annuale di BNB sia stato effettivamente chiuso a giugno, attenzione perché annuale in chiusura per Binance probabilmente c'è, c'è tutto intorno a settembre-ottobre. Quindi questa zona, mese prossimo, questo mese di settembre e il prossimo mese, occhi puntati su Ethereum e BNB, perché BNB ha una struttura di chiusura annuale in corso, quando chiude, dopo che ha chiuso, non prima, e inverte e ci dà i primi settimanali, i primi mensili che iniziano a fare trend interessanti, perché no può essere messa in portafoglio anche per un periodo di tempo lunghetto, intorno ai sei mesi, ovviamente sempre con lo stop, però può essere messo e chiaramente non sono consigli finanziari ragazzi, io parlo dando per scontato che voi abbiate formazione e abbiate fatto, insomma, i compiti a casa. Quindi Dior sempre su quello che diciamo e mi raccomando, perché poi quando le cose girano storte bisogna uscire in stop loss, quindi è inutile che state lì a pesi a una cripto che poi va a zero, come è successo con altre cripto. Allora, 826 giorni per XRP, doppio ciclo annuale, perché XRP Ripple non disegna cicli annuali, ma cicli biannuali, non si vedono gli annuali di Ripple perché è molto molto frastagliata, il successivo chiude molto lontano ed è a dicembre 2024, quindi Ripple è a metà di un biannuale. Questa metà ragazzi indicherebbe che teoricamente potrebbe essere anche utile continuare questa fase long su Ripple, perché vi faccio anche vedere una cosetta. Ripple tutto sommato dal 2020 a questa zona qui ha mantenuto un andamento positivo, quindi non ci sono segnali di inversione. Questa fase di bassista, che era molto più pronunciata, è stata completamente chiusa in questa zona e quindi qui è stato ripreso un nuovo ciclo completamente diverso. Ripple è l'unica criptovaluta delle top, ragazzi, che la ragiona a sé stante, è la meno correlata con le altre, è la più difficile da tradare, io non la trado quasi mai se non con i sistemi automatici, perché è frastagliata, non mi piacciono questo tipo di cripto, è più utile forse da farci trading veramente veloce, perché nelle position molto lunghe è difficile da tenere con questi up and down, veramente a elettrocardiogramma vi faccio vedere la struttura, vedete come fa, 1, 2, 1, 2, 1, 2, troppo veloce veramente. Però teoricamente qui siamo a metà di un nuovo ciclo annuale, che non disegna, non ci fa vedere, potrebbe spingere ancora un po' prima della fase di chiusura di questo ciclo biannuale. Quindi Ripple è anche, lei può essere in effetti a inversione per esempio di questo trend, tentato un ingresso anche long, quindi tenuta in considerazione per le operazioni long da trading, ma io come vi dicevo non la uso perché è frastagliata, è difficilissima da andare a tradare. Andiamo a vedere ADA in maniera molto veloce. ADA è molto semplice, ragazzi, ha un biannuale ribassista che è in fase di definizione, quindi sta andando a chiudere il secondo ciclo annuale, deve scendere ancora. Teoricamente, secondo l'analisi ciclica, quindi fino ad almeno la fine dell'anno, non c'è storia per questa criptovaluta che da un anno e mezzo vi ho indicato come una cripto che aveva solo una strada short, short e basta. E non c'è stato verso perché, a parte l'app che è avvenuto qui, in questa zona qui, che probabilmente corrisponde a una struttura fatta in questo modo, deve andare a chiudere l'ultimo pezzo. Non vi aspettate grandi down perché, secondo me, ormai più l'è stato fatto, però se dovesse in effetti venire meno il supporto che è creato in questa zona qui, intorno a 0,24 circa, per quanto riguarda ADA Cardano, se dovesse venire meno qui c'è lo sciacquone finale che dovrebbe andare a chiudere questo ciclo. Però a livello tempistico ci sono ancora tanto tempo perché ci vuole dicembre. Quindi, no, per quanto riguarda ADA, ancora non è il momento. Bisogna attendere Doge. Doge, secondo me, è la peggiore di tutte perché è ipermanipolata, come sapete, da mille questioni. Ma poi, soprattutto, a livello ciclico, se questa è la centratura ciclica, perché per criptovalute ipermanipolate parlare di cicli, no? Ragazzi, eh, che non ce l'ho il cappellino, però, vabbè, lo diciamo, lo facciamo comunque, però, considerazione, tanto e non quanto. Però, noi la consideriamo, a prescindere, la questione ci dice una cosa molto semplice. Qui è stato chiuso un B annuale, anche questo, 900 passaggiorni, non si vede la metà, teoricamente dovrebbe essere qui la metà, poi c'è quest'altra struttura, perché era troppo up. In questa zona, in teoria, stiamo andando a chiudere un nuovo ciclo annuale. Attenzione, però, perché questo ciclo annuale è molto debole per quanto riguarda Doge, ed è un ciclo annuale che, in teoria, se non tiene questa zona, anche lei diventa ribassista. Questo significerebbe, in teoria, un ribasso che non finisce qui, perché poi, ok, c'è l'up, ma dovrebbe continuare anche per il annuale successivo. Quindi, no, anche per questa cripto estremamente complessa e ipermanipolata, e poi, soprattutto, non vale la pena, ce ne sono tante altre. Passiamo a Solana. Solana, invece, che dopo lo sciacquone della questione TIX, è riuscita a riprendersi notevolmente, anche se, chiaramente, lontana anni luce dai suoi massimi e suoi livelli, diciamo, di benessere, diciamo così. Allora, qui è sicuramente iniziato un nuovo ciclo annuale, se vi ricordate, quando eravamo in questa zona c'era un po' il dubbio. Questa fase ribassista e poi la ripresa ha annullato la possibilità che qui fossimo ancora nell'annuale precedente e quindi annuale nuovo. Quando chiude è lungo, ragazzi, vedete? Ci vuole un po' di tempo. Questo annuale qui è previsto in chiusura verso marzo. Teoricamente, quindi, teoricamente, siamo in una struttura, per quanto riguarda Solana, di natura ternaria, fatta in questo modo. Sta facendo un po' il cammello, quindi è chiusa fra 27 dollari e 15 dollari circa supporti a resistenza, però, teoricamente, fino a quando non esce da questa struttura, è buy, dip e sell the app, in sostanza. È la classica strategia da barra di congestione che potrebbe essere attivata. Da un punto di vista temporale, qui, secondo me, siamo su un annuale di natura ternaria che potrebbe svolgersi proprio così. Quindi, il massimo in questione è avvenuto a metà. Quindi, teoricamente, andiamo verso la parte debole, a prescindere dalla questione della tenuta o meno del trend. Questa è la parte debole ciclica. Ancora, però, non siamo molto spinti più in là, perché siamo proprio a metà di questo ciclo. Quindi, dovrebbe iniziare la sua fase vera, debole, da ottobre in poi. Quindi, un po' di tempo lo abbiamo. Fermo restando che non credo che possa performare granché se le altre cripto vanno giù. TRX Tron è l'ultima che vendiamo oggi, ragazzi, perché nella top 10 c'è lei. L'unica che ha un ciclo annuale molto pronunciato, con un trend pulito, elegante, assolutamente manipolato, ma in questo caso è bene. Va bene, manipolato bene. E soprattutto, guardate l'app che è stato adeguato, ma non eccessivo. No, più 103%, quindi tra minimo e massimo, tra l'altro. Quindi, veramente piccolino. Però, guardate che eleganza nello stile. Adesso, dove siamo? In questo caso, il ciclo annuale ha fatto la sua metà con un massimo anche qui. Quindi, una struttura che sembra essere sostanzialmente una ternaria. Dovremmo essere in questa fase. Stiamo già nella seconda parte debole del ciclo annuale. Quindi, anche qui ci andrei molto cauti con i long. Secondo me, questa è una fase veramente in cui bisogna attendere un pochino che le cripto si vadano a riposare. Solo, a conclusione di questo video, tiriamo fuori dal sacco solo e esclusivamente BNB, BNB, un po' Ethereum, sono da tenere sotto stretti riflettori per quelli che abbiamo visto oggi, ragazzi. E le altre, un po' così. Bitcoin da guardare. Però, guardate un po' come si è modificato il quadro delle criptovalute in questa seconda parte dell'anno. Attenzione, però, non do more debt, perché queste sono le top 10, poi ce ne sono tante altre che hanno magari dei cicli annuali più pronunciati. Non vi piace analizzarle con l'analisi ciclica alcune cripto perché sono troppo poco capitalizzate e soprattutto troppo manipolate. È la ciclica. In quel caso, non è proprio la sua analisi. Per oggi è tutto, buon weekend e noi ci rivediamo lunedì nel prossimo video. Ciao!